Musica Sono Franco Pinna, sono il sindaco di Orani, una comunità estremamente laboriosa. Quest'anno siamo alla dodicesima edizione di Cortes Apertas e riteniamo sia importantissimo per la nostra comunità farne parte e partecipare attivamente anche con una certa capacità di reinventarsi perché quest'anno abbiamo dato molto risalto a un'iniziativa totalmente nuova nel contesto delle nostre comunità e per la prima volta in Sardegna è stato fatto, si sta svolgendo il primo campionato regionale del Zormastro dei Muru, cioè per essere chiari, per tradurre semplicemente dei muratori, quelli che lavorano e fanno le case. Non ultimo, Univola, la sua principale origine come artista era il manovale muratore. Quindi indichiamoci che quest'anno per la prima volta per Cortes Apertas si potrà visitare il Museo Univola interamente visibile con tutta la collezione e con tutte le varie forme d'arte che Univola ha attraversato. Musica Alcune delle aree del paese, il centro storico abbiamo deciso anche di arredarlo in maniera permanente con la mostra di Costantino Univola che è quel ritorno a Ittaca Quando rientrò in Sardegna nel 58 per fare il freggio della chiesa di Ittria abbiamo deciso di farne uno spazio permanente di arredo urbano e artistico. Musica Ovviamente quest'anno è caratterizzato dal campionato dei muratori Però comunque Orania è una comunità ricca di artigiani che vanno dal ferro battuto, la pelletteria, i prodotti tipici. Musica Poi abbiamo un altro prodotto molto gustoso, la scazzas, la cosiddetta, il prurale. E' una fritella che viene fatta semplicemente con farina, sale e acqua, che non è dolce. Si può mangiare con i formaggi, poi si può mangiare anche col miele. Nella tradizione presente da sempre, io ricordo da quando ero bambino che aspettavamo il carnevale per mangiarlo, ma adesso si fa carnevale ma si fa tranquillamente a cortesapestas come si fa tranquillamente per il Natale e in tutti i diversi periodi dell'anno. Musica La sartoria è l'attività del cosiddetto design per la moda, perché non si tratta solo di una semplice attività sartoriale, ma si tratta di un vero e proprio comparto produttivo che ha da lavoro a diverse persone, due sartorie altamente specializzate nella lavorazione del vellutto. Non ultimo, anche in questa edizione di Cortesaperta, si è una giovane e brillante stilista e che sicuramente denota una comunità non rigida da quel punto di vista, quindi sì il velluto che è la tradizione, ma anche gli abiti da sposa, gli abiti eleganti femminili e anche maschili. Musica Musica Musica